Questo è il movimento moda che è la quarta edizione che proponiamo qui a Tartaroma con una collettiva di stilisti internazionali italiani. Cosa fa di moda quest'anno? Questo è più che altro un settore per il fashion design, quello che è la tendenza di moda. Noi più che altro prepariamo le modelle per presentare ai fashion design. CELUCO DEI è un scouting di modelli internazionali che lo chiede fashion e modders, cioè la preparazione e l'avviamento al mondo della moda per le modelle. Nel backstage c'è un delirio. Lo so, è così, è un momento di caos. Tacco numero 15 Tacco 15, terrorizzata no? E' un po' E' un po'